È morto nella serata di domenica 22 settembre Antonio Savini, 82enne originario di Maglie, che alcune ore prime era rimasto coinvolto in un incidente stradale verificatosi sulla strada statale 16 Maglie Otranto. L'anziano è deceduto in ospedale a causa di un arresto cardiocircolatorio che si è rivelato fatale viste le sue condizioni di salute. Dopo l'impatto, la vittima viaggiava sulla sua Nissan Micra insieme alla moglie in direzione Otranto, quando è stata tamponata da una Citroen C3 con a bordo un ventenne di spongano e alcuni amici. Immediatamente, subito dopo il sinistro, la zona è stata raggiunta dai vigili del fuoco del distaccamento di Maglie, i quali hanno messo in sicurezza l'area e i veicoli coinvolti, oltre ai carabinieri del locale comando compagnia a cui sono affidati i rilievi. I sanitari del 118 invece hanno provveduto ad un primo soccorso sul posto dell'82enne e dal suo successivo trasferimento in codice giallo in ospedale. Le sue condizioni di salute purtroppo si sono aggravate negli istanti successivi all'incidente fino al tragico epilogo. Sarà compito dei carabinieri ora ricostruire la dinamica dell'incidente ed accertare eventuali responsabilità.